Ciao Roberto Roberto cosa fai oggi? Oggi mi lancio Da dove? Oggi provo il brivido Da andata? Dovai? Ho scappato Cado ragazza? No, non ho mica Saltate insieme? Sì All'idea che buona te da lei? L'idea ci ha stuzzicato tutti e due Mi ha detto vabbè andiamo Quanto hanno altri amici Hanno detto no E poi quando vedono il video Sai quanto rosicano Perché c'è tutto il coraggio Te fallo Dai è grande Io sono Massimiliano Sono il tuo video Ci divertiamo Sorridi Alla grande Ma adesso Ha aspettato per salire questo Ha saputo per salire il hellissimo Dissimo Ehi A Un'éger Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.